Per andare ad ascoltare il vostro cantante preferito... Quante erre... Mi ha chiesto di pensare per lei ad una nail art da sfoggiare al concorso ippico per il quale si sta preparando... Benvenuta Maria Assunta! Una nail art che ricorda di un pochino lo stile colorato dei cartoni animali... Sherika, la nostra gemstones... Sherika? Mi ha chiamato Sherika. Sherika. Quindi il tuo lavoro principale ve lo... Aspetta, si metto sotto in cinese. Fatto un pasticcio. Che cosa è successo? Eh, mi sono sporchata Sherika. E' a Hulk, ve lo giuro!